Gli ingredienti che occorrono per gli gnocchi fatti in casa sono un uovo ogni chilo di patate, un pizzico di sale e farina quanto basta. Dopo aver lessato e sbucciato le patate, passarle nello schiacciapatate ancora calde. Una volta raffreddate, rompere le uova e aggiungere un pizzico di sale e la farina poco alla volta, lavorando l'impasto finché diventa omogeneo. A questo punto realizzare delle strisce con l'impasto e tagliarle a cubetti. E a questo punto gli gnocchi di patate sono pronti! Grazie per la visione!